Salve, mi chiamo Conrad Berka e faccio l'architetto. Un progetto che rappresenta il modo in cui lo faccio si chiama Berka House, un edificio residenziale multipiano costruito utilizzando la tecnologia del legno secondo un processo di alta prefabbricazione. I dati di partenza erano chiari. Un lotto stretto e lungo con un edificio in fondo mancava di un fronte sulla strada per cui si trattava di completare questo vuoto ovviamente dando un accesso al cortile retrostante e all'edificio. Il sole si trova in questa situazione e quindi la soluzione è stata quella di dividere il lotto in tre parti arretrando la parte centrale. L'arretramento è un tentativo di portare più luce possibile nella parte centrale dove si trovano i soggiorni perché Berlino è una città con pochi giorni di sole. La seconda questione architettonica importante era quella di mediare tra due condizioni molto diverse. Da un lato un edificio di fine ottocento con un sistema ordinato di aperture. Dall'altro un esempio infelice del brutalismo berlinese post bellico. Il Berka House si pone come elemento di mediazione tra queste due situazioni in cui la parte centrale è diventata una grande parete di vetro e le due parti laterali sono diventate due sorte di torri che appaiono simmetriche ma in realtà non lo sono e sono rivestite da una facciata ventilata di pannelli di legno. L'edificio appare quindi come una porta in legno frugale a completamento di un isolato. La scelta di adottare la tecnologia del legno è una scelta adottata fin dall'inizio per i grandi vantaggi che questa tecnologia offre. Le parti che compongono l'edificio sono state costruite in un ambiente riscaldato da una ditta basata in Alto Adige che si chiama l'Igno Alp utilizzando macchine a controllo numerico ad alta precisione e questo ha permesso di ottenere una qualità impensabile per chi utilizza tecnologie tradizionali. Le parti sono state poi spedite a Berlino e installate da due operai specializzati nello spazio di 21 giorni lavorativi. Questi sono i vantaggi che si ottengono utilizzando la tecnologia del legno. Vantaggi temporali, di qualità, economici e di performance energetica. Berkhaus infatti necessita di soli 15 kilowatt al metro quadro per anno. Berkhaus mi pare quindi un esempio interessante rispetto alle due emergenze di oggi che sono l'emergenza abitativa e l'emergenza energetica e per questo motivo che il progetto mi ha stimolato a pubblicare due libri con lettere 22 edizioni. Il primo si chiama Berkhaus e fornisce tutti i dati tecnici dell'operazione. Il secondo si chiama Frammenti berlinesi e rappresenta un'indagine estetica stimolata dai fatti tecnici. Alla fine della fiera penso che chi vuole fare l'architetto contemporaneo e oggi deve accettare e vivere questa condizione scissa, quella di essere allo stesso tempo un tecnico e un artista che produce statement estetici con carattere pubblico. Grazie per la visione!